Nel settembre del 1944 i tedeschi si ritirarono a nord di Prato verso Figline, dato che gli alleati stavano per liberare la città. Così i partigiani rifugiati sui monti pratesi impugnarono le armi e alla sera scesero a Figline per recarsi a Prato per partecipare alla liberazione, ma i tedeschi li scoprirono. Scoppiò un conflitto a fuoco e data l'inesperienza, i partigiani vennero decimati. Tentarono di fungire, ma i tedeschi fecero 30 prigionieri che presto avrebbero impiccato nella piazza del paese di Figline. I nazisti decise di fare un piccolo rastrellamento della zona e presero tutte le persone che trovarono a Gila. Vurano portate a Villanocchi, che è una gila qui all'inizio del paese di Figline dove c'era il comando dei nazisti. Qui fu fatto una specie di processo. Noi sono diventati tutti quanti colpevoli perché erano civili, ma trovati con delle armi in una zona di guerra. E presano tutte queste trave, si dice che faranno, si pensava tra noi che faranno. Poi dopo a regola, dopo presero quelle fune del pozzo che si trovava lì, le sciolsero tutte, le sciolsero e pesciano tutti i cappi e li messano qui. Poi io quando vedi che questi ragazzi mi affacciano alla finestra e vedi questi ragazzi tutti allineati al muro della Bardena, pensai, dissi, loro gli inficcano. Dei trenta prigionieri presi dai tedeschi ne riuscì a scappare uno che, mentre aspettava il suo turno al patibolo, provò a deludere il controllo dei miliziani e riuscì a fuggire nascondendosi in una casa della zona. In memoria di Shaw, nella piazza di Figline è stato retto un monumento con al suo interno le corde con cui vennero impiccati i partigiani. Alla base del monumento sono poste delle stici di marmono sul suolo, una più lunga delle altre che rappresenta la fuga dei giovani partigiani.